Buongiorno a tutti. La bellezza e l'importanza del Milan di oggi è che abbiamo la forza, la concentrazione e l'energia di pensare solo alle nostre partite. Ieri sono iniziati i quarti di finale di Champions League, Manchester City e Inter sono state molto brave a vincere le loro partite e quindi vedremo che cosa accadrà. Però noi siamo troppo immersi in questo doppio confronto con il Napoli, per quello che c'è stato in campionato, per il fatto che si tratta di una sfida tutta italiana, per la lunga volata che ci ha portati a questa andata dei quarti di finale. Siamo troppo immersi per poterci distrarre, per poterci far distrarre dai risultati delle altre partite. Milan-Napoli è solo Milan-Napoli. In questa chiacchierata parleremo un po' della lista Champions, parleremo un po' della storia e parleremo anche un po' di questo girone di ritorno molto diverso da quello che era stato il girone d'andata, almeno fino alla sosta mondiale. Lasciatemi ricordare prima OneFootball, OneFootball è a vostra disposizione, l'app di OneFootball è il link che c'è nella descrizione di questo video. Andate sul link, scaricate il link, l'app di OneFootball è totalmente gratuita, l'app di OneFootball vi propone highlights, partite, notizie, approfondimenti, scaricate l'app di OneFootball, l'app di OneFootball è totalmente gratuita. Sentivo ieri, prima di Benfica e Inter, proprio la Diner Azzurro, Beppe Marotta, a parlare del fatto che il Mondiale a metà stagione ha restituito alcuni giocatori che non erano gli stessi di prima. Questa è una cosa che noi qui, su questo canale, analizziamo da un po' di tempo, evidentemente, come ho spesso pensato, non è stato un problema solo nostro. Noi a gennaio abbiamo per tutta una serie di concause, non solo legate al Mondiale, evidentemente, pagato pesantemente Dazio a questa situazione. Però non è stato un problema solo nostro. Ora però, che cosa succede? Succede che con il recupero di Calulu abbiamo tutti i giocatori in lista Champions abili e arruolabili ad aprile. Ed è un segnale importante. Spesso accade, sapete, quando... è chiaro che non c'è niente di voluto, non c'è niente di congegnato. Però, quando arrivi in Champions ad aprile e hai delle chance da giocarti, mediamente, mediamente, i giocatori riescono ad esserci tutti. Io ricordo, ad esempio, adesso vi farò un po' di pipponi storici, un po' di pistolotti d'antan. Nel 2006-2007 noi eravamo tra novembre e febbraio tutti sbrindellati, tutti giocatori di qua, giocatori di là, infortunati di ogni tipo, per la storia particolare che aveva avuto quella stagione, come questa. Qui, il Mondiale di mezzo, là, le mancate vacanze estive. Il fatto che il 9 agosto, mentre eravamo in vacanza, avevamo dovuto organizzarci nel giro di una settimana a giocare un play-off di Champions League. E quindi, fra novembre e novembre, era uno stilicidio di infortuni, dicembre, gennaio, febbraio, iniziato a recuperare qualcuno, marzo, altri, ad aprile, tutti al loro posto. Tutti al completo. Perché la Champions fa di queste cose. E, ripeto, nel novembre 2006 il Milan aveva le stesse possibilità di vincere la Champions che oggi. Allora, la vinse, questa volta, ragazzi, gli avversari sono durissimi e poi noi siamo i quarti di finale. L'Inter ha vinto l'andata 2-0, ha già un piede in semifinale, buon per loro. Noi, no. Noi dobbiamo pensare solo alla partita di stasera, che è il nostro patrimonio, la nostra risorsa. Dobbiamo trasformarla in una nostra risorsa. Dobbiamo stare molto attenti al Napoli. Dovesse giocare Elmas, falso 9, attenzione, perché quando Spalletti diventa camaleontico, poi riesce a colpire. A proposito di storia, vedo uno strano addentellato, ripeto, anche qui stagione anomala, nel senso che in questa stagione c'è stato il Mondiale a metà. Nel 2002-2003, invece, c'è stata la Champions League più lunga della nostra storia. Vi ricordo che per vincere la Champions League del 2002-2003, il Milan ha dovuto giocare 19 partite. Quasi un campionato, ragazzi. Le due dei preliminari con lo Slovan-Liberec, le sei partite della prima fase a Gironi, le sei partite della seconda fase a Gironi, le due partite dei quarti, le due partite di semifinale e la finale. 19 partite. Tantissime. E in campionato questo lo accusammo, perché il Milan del 2002-2003 fece 39 punti, tanti nel girone d'andata, la competitività era molto alta, 39 punti nel girone d'andata, tanti al punto che il Milan era campione d'inverno. Il Milan del 2002-2003, che arriva terzo alla fine, è campione d'inverno al Giro di Boa. Poi nel girone di ritorno il Milan non ne fa più 39 punti, ne fa 22. Ed era un Milan che riusciva a giocare bene, soprattutto le parite importanti. battemmo l'Inter 1-0 proprio il 12 aprile del 2003, con il gol di Inzaghi su quell'assist, non so se ve lo ricordate, quell'assist di Rui Costa, proprio da bocciofila con i piedi. E il gol di Inzaghi. Peraltro il 12 aprile si è giocato anche un altro derby, si è giocato il derby di ritorno dei quarti di finale della Champions del 2005, con finale di Istanbul quando il Milan vinse. Era in vantaggio 1-0, poi la parita venne sospesa. Quindi, e poi ci fu lo 0-3 Tavolino a nostro favore. E quindi, ecco, quel campionato del 2002-2003, 39 punti andata, 22 ritorno, mi ricorda un po' questo. Abbiamo fatto 37 punti all'andata e fino a questo momento ne abbiamo fatti 15 al ritorno. C'è uno sbalzo, c'è uno sbalzo. E quindi c'è una, diciamo, concomitanza numerica, ma ai numeri bisogna dare sostanza e tocca a noi dare sostanza. Ragazzi, ho parlato molto di storia per cercare di rappresentare degli scenari, molto spesso in questo pre-match, lungo pre-match di Milan-Napoli, che è la partita che ha fatto più notizia in Italia, proprio perché si affrontano due squadre italiane, sarebbe stato lo stesso se fossero affrontate Inter e Napoli, sarebbe stato lo stesso se fossero affrontate Milan-Napoli. Spesso in questo lungo pre-match si è parlato della nostra storia. Io mi permetto di dire che la storia è un patrimonio indiscutibile. La storia è storia, non è mai passato. Solo chi non conosce la storia, derubrica la storia a passato. Chi conosce la storia e la ama sa che qualche pulviscolo della storia viene sempre in campo con te. Però la nostra storia è così importante, è così alta, che ne parliamo alla fine di questa stagione. Se la storia ci avrà dato una mano o meno e se l'abbiamo soprattutto rispettata. Pensare di andare in campo con la storia in un quarto di finale 50-50, in cui possiamo passare ma anche non passare, come in questo caso con Napoli, lo trovo, non dico oltraggioso, ma un filo pericoloso. La storia nostra è così irraggiungibile che la lascerei al suo posto. Ne riparliamo alla fine, vedremo la fine di questa stagione. Ha ragione il mister, ha ragione Stefano Pioli quando dice che è ancora lunga, i giudizi si danno solo alla fine. E quindi ecco, anche il giudizio sul nostro rispetto di quest'anno nei confronti della nostra storia di sempre, ne riparleremo a fine anno. Adesso pensiamo solo a giocare la partita. Ci vediamo, ci sentiamo dopo la gara ragazzi. Buona giornata.